no no non devi cadere così perché? ma lo sento, è riflesso di come quando tosti il caldo e togli hai capito? più o meno dai provo dai che ti mostro sinistra al ginocchio destro ognò che dà destra sotto da macchina opp se vede qui che stava la pancia triangulofattica e rimane svelo una reazione da l'altra parte se vede le clyde se vede ciappa se vede il trattato il trattato no 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 è caduto o che va ahahah 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 questo è che voleva ahahah spingi copri spingi gi 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 se ha mai l'amore di rizzare la parte adesso vai questo hai dimenticato questo deve essere qui controllo di gamba lascia stare con la gamba qui deve controllare no così io non voglio e tu mi tiri alzati 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 completamente e tieni tieni mi di gamba si e portanto adesso se ne di gamba quando mi alzati no bene ti mostro vedi hop 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 vedi e poi manda basta ok se lui va avanti io ti proseguo vedi a te a te a te a te a te male di voi adesso lo capito ma al sinistro l'importante è che il ginocchio sempre va avanti qua spingi qua dentro qua spingi qua dentro vai di qua spingi di qua spingi di l'apre deve essere così si 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 ora il ginocchio vai adesso devi coprire questo questo va qui vai hop trovi il movimento presa già deve essere pronta vai giù prendi con braccio e basta basta estira il diet si non deve fare tantissimi momenti un minuto bum bum capito? si vai entra oh e gamba spingi basta spingi spingi veloci qua è importante girarmi per girarmi tu devi spingare il mio ginocchio dai ti provo io cosa dobbiamo fare per spingarti meglio per spingarti meglio per spingarti meglio oh ti mostro posso andare vedi così difficile per spingarti io doi voce per qui vedi vedi come sta la tirana se stiamo qua hop hop oh vedi controllo che tu non scapi chiudo il triangolo e in un modo veloce vado qui gano 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 vedi vale vedi 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 non capito ti provi a mettiti la questione in solo così HHHH o vedi però il giro deve essere tra le gambe dentro molto più dentro entra così dentro entra dentro stop oh si stop giroci bravissimo stop si qua è importante di non permettere che lui avrà libertà di movimento di gambe un gancio anche da fuori guarda funzionabile anche se sarai così vedi stinge questo tira e lui non cade anche stai bene stai bene anche questo è molto molto buono già vedi 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 cosa succede vedi e di qua a me è già già va bene già va bene già direi che era super che strappa ah capito vedi 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 di pancia di qualcosa che lui non scappa e poi secondo secondo braccio tra le gambe vedi 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 perché una gamba tra le hai stretto basta che tu devi essere molto più come chiari non vedi la due gambe che sono da te e riduzza un'altra molto più di tu esci e esci in un altro campo dove c'è un altro movimento basta aspettare basta aspettare basta che tuo terzo occhio mentale qui dentro sarà terzo perché si vedi che sei gambe sono vedi 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 avre är vedi anlam al vedi 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 hai capito? dai dai dai, forse zero, vedi? no, 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 dici di no vedi? io vedo che tu hai tirato di una ganda quanta forse? meno di zero dai, perciò sempre guardo zionicali vedi, per non permette, io mi hagančiukui vedo che tuo corpo legato molto con gamba sai qual cosa? vedi? hai giubito come funziona ti tu stai in Ducanica questa carta? dai